Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo il laboratorio di geometria, ovvero gli angoli. L'angolo è quello spazio racchiuso da due semirette che hanno la stessa origine. I lati sono le semirette. Il vertice è il punto di origine di ogni semiretta. L'ampiezza è lo spazio compreso tra i due lati. Diamo un nome a ogni angolo. Gli angoli prendono nomi diversi in base alla loro ampiezza. L'angolo acuto ha un'ampiezza inferiore di 90 gradi. L'angolo retto ha un'ampiezza di 90 gradi. L'angolo ottuso ha un'ampiezza maggiore di 90 gradi e inferiore di 180 gradi. L'angolo piatto ha un'ampiezza di 180 gradi. È il doppio di un angolo retto. L'angolo giro ha un'ampiezza di 360 gradi. È il doppio di un angolo piatto. L'angolo nullo, invece, è di 0 gradi. Ora passiamo alla pratica. L'occorrente di oggi è un cartoncino, un foglio di carta gialla, un foglio di carta azzurra, penarello nero, bastoncini da ghiacciolo, colla vinavil, colla a stick, forbici e vighello. Prima ho incollato il foglio azzurro sul cartoncino. Poi ho tagliato e ho incollato con la colla vinavil i bastoncini da ghiacciolo su un foglio azzurro. Ho tagliato dei rettangoli di centimetri 12 per centimetri 7, circa, e li ho piegati in modo da realizzare tanti ventagli. Poi, con la colla vinavil, ho incollato le estremità del ventaglio vicino al bastoncino. Ho incollato tutti i ventagli ai bastoncini e ho scritto sotto ad ognuno il nome dell'angolo. Ecco il risultato finale! Ci vediamo al prossimo video! E per non dimenticarmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere un po' di notifiche, commentate, condividete, chiedete un bel mi piace. Se vi è piaciuto il video e seguici!